Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare Libertà Siamo nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte Siamo qui con Daniele Nuzzi by Celentano Ciao a tutti Che ci aiuterà in questa canzone che è Pregherò Pregherò del grande Adriano Celentano Siccome mi avete richiesto Stand By Me Questa è la versione in italiano Quindi facciamo, visto che abbiamo Daniele qua che canta bene Celentano Facciamo Pregherò anziché Stand By Me Ma è uguale Vero Daniele? Sì Dopo la sigla Cantare Libertà Bene ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi Poi dopo cambierà tonalità, però noi rimaneremo sempre nella stessa tonalità di Mi maggiore Perché comunque è un video con degli accordi semplificati Altrimenti ce ne sarebbero troppi Comunque il Mi maggiore si forma con Mi Sol diesis Si Mi maggiore Sappiamo che questo è il Do dove ci sono i due tasti neri a sinistra Quindi Mi Sol diesis Si forma il Mi maggiore Poi ci sarà il Do diesis minore Quindi se questo abbiamo detto che è il Do Do diesis Mi Sol diesis Forma il Do diesis minore Poi andiamo indietro Avremo il La maggiore Do, Si, La La, Do diesis, Mi La maggiore Ed infine il Si maggiore Si, Re diesis, Fa diesis E la canzone adesso vi facciamo sentire come fa Pregherò per te Che hai la notte nel cuore E se tu lo vorrai Crederai Io lo so perché Tu la fede non hai Ma se tu lo vorrai Crederai Non devi odiare il sole Perché Tu non puoi vederlo Ma c'è Ora slende Su di noi Su di noi Come abbiamo visto Rimane molto di più Sull'accordo di Mi la canzone Che sugli altri accordi Quindi Vediamo un attimo Pregherò Per te Che hai la notte nel cuore E se tu lo vorrai Crederai Pregherò 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 Io lo so Perché Tu la fede non hai Ma se tu lo vorrai Crederai Bene, per questo video Noi non faremo il cambio di tonalità Ma rimarremo sempre Sugli stessi accordi Bene ragazzi Come avete visto Anche questa è una canzone semplice Da suonare al pianoforte Io ringrazio Daniele Nuzzi Vai Cialentano Grazie a te Mario Per averci dato una mano Grazie Seguitelo anche su Facebook Lo trovate E poi vi lascio in descrizione Come sempre Il link su dove trovare il testo con gli accordi Poi altri due link Su come imparare gli accordi al pianoforte E la diteggiatura per entrambe le mani Ciao Alla prossima Ciao Ciao